Le 9 e 12 minuti, grazie di essere ancora qui con noi, ci ha raggiunto nel frattempo Pasquale Ciuffreda della Segreteria Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica, grazie Pasquale per aver accettato il nostro invito. Grazie, Felice, un saluto ai nostri telespettatori. E continuando sempre su Agrigento, capitale italiana della cultura, ci ha raggiunto anche il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Grazie Sindaco per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora Sindaco, io partirei da un piccolo video che è quello del momento della proclamazione di Agrigento di ieri al Ministro della Cultura nella sala Spadolini alla presenza del Ministro della Cultura. Ripercorriamo quei momenti. Ho cercato di essorcergli qualche informazione ma lui è stato detto non ti interessa, lo scoprirai. Leggo la motivazione. Agrigento assume come centro del proprio dossier di candidatura la relazione fra l'individuo, il prossimo e la natura, coinvolgendo l'isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità. Il progetto risponde in modo organico all'obiettivo di presentare a un pubblico vasto un programma di grande interesse a livello territoriale, ma anche nazionale e internazionale. Il ricco patrimonio culturale del territorio è il volano con cui si valorizza la variegata offerta culturale, proposta in un'ottica di innovazione e promozione di conseguenza di un successivo sviluppo socio-economico che trova ispirazione nei concepti tecnologici più moderni. Il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni potrà promuovere la cultura come caposaldo della crescita individuale e comunitaria. La giuria, pertanto, raccomanda la città di Agrigento per il titolo di Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025. Congratulazioni, Sindaco! Sindaco, la invito a venire qui con me. Ecco, Sindaco, avevamo visto un po' quelli che erano stati i momenti di meno di 24 ore fa. C'è un passaggio, lei, mentre il Ministro San Giuliano inizia a leggere un po' le motivazioni della Commissione, prende la mano di un altro Sindaco, che poi in realtà è il Sindaco anche di un paese qui vicino, di Monte Sant'Angelo, anche altra città candidata a Capitale Italiana della Cultura. Quali erano le emozioni in quei momenti? Capite bene, mi è stato di emozione, perché non avevo capito quando il Ministro doveva leggere le motivazioni, ma penso non doveva leggere il nome della città, ma lui proprio a prima parola ha detto Agrigento. Lì per lì non ho capito, perché pensavo che volesse elencare anche le città, ma poi quando è andato avanti nel discorso l'ho capito, avevo accanto il Sindaco Pugliese, che peraltro avevamo fraternizzato qualche minuto prima della proclamazione, quindi mi è venuto spontaneo proprio stringergli la mano, e lui in maniera molto molto affettuosa, proprio me l'ha stretta pure lui, mi accarezzava e l'emozione è stata grandissima, non me l'aspettavo, guarda. Pasquale, tu hai avuto modo di seguire anche la candidatura, anche un po' di Monte Sant'Angelo, tutte le attività anche di comunicazione portate avanti dal Comune, e hai scritto anche un post su Facebook, su questa stretta di mano. Quanto è stato bello quel gesto tra sindaci in quel momento, in finale, in competizione, ma poi in realtà uniti nel momento della programmazione di Agrigento? Sì, è stato un gesto che personalmente da cittadino di Monte Sant'Angelo mi ha emozionato tanto, perché ho visto una politica fatta di umanità preziosa, una politica che sa tendere la mano verso l'altro, e quindi questo è stato un gesto semplice, ma possiamo definirlo dalle tante parole, perché due sindaci che sono in competizione tra di loro, l'uno accanto all'altro, ma insieme festeggiano la bellezza e la vittoria della capitale italiana della cultura, quindi ancora una volta vediamo una politica con la P maiuscola, come ci ripeteva Papa Francesco, una politica che sa andare verso l'altro. Sindaco, lei ieri ha parlato di un progetto, un progetto idealistico, ma in realtà poi anche molto concreto, ha parlato di una nazionale turistica da costruire un po' con tutti insieme, lei tra poco in Comune farà anche la conferenza stampa, tra qualche minuto alle 10, quali sono adesso i prossimi step che condurranno a Grigento al 2025? Sicuramente ora ci metteremo al lavoro, si costruirà proprio questo ufficio dedicato, poi per quanto riguarda l'argomento della nazionale del turismo, quello è sempre stato il mio pallino, quello io, come ha detto poco fa, chi mi ha preceduto, questa secondo me è la vera politica, che io sono un medico, da due anni e mezzo soltanto sindaco, la mia visione della politica è diversa, ma forse è quella della politica vera, della politica pura, e avere una rete turistico-culturale che dalla Val d'Aosta, come ho detto ieri, arriva in Sicilia, senza guardare colori politici, senza guardare gli interessi personali, secondo me è il massimo, capisco che a volte può essere anche un'utopia, però ci dobbiamo provare. Qual è stata la paura più grossa di questo percorso, che vi ha portato ad essere proclamati come Capitale Italiana della Cultura 2025, e qual è stato invece un momento durante questo percorso che ricorderà? La paura più grossa era quella di essere scartati, e capitare bene dopo due anni di lavori intense, anche con i progettisti, anche con la città, ritornare a reggendo senza questo trofeo sarebbe stato anche poco edificante per me, visto anche perché voi non siete sindaci, io lo sono, forse è la peggiore carica politica che uno può rivestire, e quindi arrivare sconfitti nella propria città non è una cosa edificante. Il momento emozionante è proprio quando il ministro ha aperto la busta, lì non lì, mi sentivo come al primo esame universitario, io sono un medico, ho fatto quindi tantissimi esami universitari, ho avuto la stessa sensazione come quando uno è seduto davanti a una commissione di esami e aspetta il verdetto da un momento all'altro. Grazie, allora grazie sindaco per essere stato con noi, e in bocca al lupo per tutti quelli che saranno i prossimi step fino all'avvio di quest'anno, del 2025, ricordiamo la dirigente capitale italiana della cultura. Grazie per l'invito e grazie anche, io ho ringraziato tutti gli altri sindaci, ma verrò a Monte San D'Angelo perché è proprio per ringraziare di nuovo il mio collega sindaco e per visitare questa meravigliosa cittadina. Grazie, grazie ancora in bocca al lupo e in bocca al lupo anche per la conferenza stampa tra poco alle 10. Allora, noi restiamo ancora qui, Pasquale, tra poco parleremo di quello che è stato il Movimento Studentizzazione Cattolica e la Scuola Formazione Studenti conclusa a Montesilvano la scorsa settimana, nel frattempo c'è Maria Pia pronta per gli aggiornamenti. Sarà appunto sicuramente tempo anche a termine puntata per una nuova ronda di aggiornamenti. Pasquale, allora continuiamo un po', avevamo detto che durante questa puntata avremmo parlato anche di quello che è stata la Scuola Formazione Studenti terminata a Montesilvano la scorsa settimana, eravamo la settimana scorsa in collegamento proprio con Montesilvano, con Chiara Mainente del Triveneto, del MSAC Triveneto. Com'è terminata questa Scuola Formazione? Questa Scuola Formazione per Studenti è terminata nel migliore dei modi perché l'energia, la passione e l'entusiasmo che abbiamo vissuto a Montesilvano adesso sta ritornando in tutti i territori d'Italia perché i partecipanti di questa Scuola Formazione per Studenti fanno parte di tutte le regioni d'Italia, dalla Sicilia alla Lombardia al Piemonte. Quindi quell'entusiasmo, quella carica che abbiamo vissuto dal 24 al 26 marzo a Montesilvano adesso è fermento nei vari territori e quindi speriamo che possa germogliare, portare dei frutti e tanta bellezza nei territori e nella vita quotidiana di ogni studente. È stata una Scuola Formazione Studenti che ha visto il coinvolgimento di circa 2.000 studenti provenienti da tutta Italia, la Scuola Formazione Studenti che arriva dopo la pandemia. Come sono gli studenti? Sono pronti? Come si sentono dopo quello che è stato un po' quel periodo che abbiamo vissuto fino a qualche anno fa? E questa è proprio la vera sfida, radunare 2.000 studenti per una Scuola di Formazione Studenti, quindi una Scuola dove al centro c'è il confronto, il dialogo e la formazione, non è stato semplice però gli studenti hanno risposto bene, quindi in massa sono venuti a Montesilvano e avevano voglia di mettersi in ascolto, voglia di imparare, voglia di confrontarsi ma anche voglia di mettere le mani in pasta perché il tema della Scuola di Formazione per Studenti era proprio Generazione 20-30, studenti che cambiano la realtà e quindi negli studenti si avvertiva questo desiderio di cambiare la realtà da protagonisti però per cambiare la realtà ci siamo detti più volte che c'è bisogno di formazione perché noi vogliamo abitare questo tempo costile, formandoci, confrontandoci e ascoltando chi viene appunto a Montesilvano anche in un certo senso per una plenaria e quindi dove gli studenti possono fare ore di formazione e il desiderio era tanto, una platea piena di 2.000 persone sedute ad ascoltare questa gente che ha raggiunto Montesilvano, tra i tanti ospiti che abbiamo avuto. E tra i tanti ospiti avete avuto anche un messaggio particolare, speciale che vedremo tra poco anche qui a Padri Pio TV, ci fermiamo Pasquale solo qualche secondo per un break pubblicitario e poi torniamo ancora qui a parlare della Scuola Formazione Studenti del Movimento Studenti di Azione Cattolica. È 9 e 27 minuti e stiamo ancora qui con Pasquale Cioffrida, la componente della Secretaria Nazionale del MSAC, il Movimento Studenti di Azione Cattolica. Pasquale, dicevamo, c'erano stati tanti ospiti nell'ultima Scuola di Formazione Studenti a Montesilvano dal 24 al 26 marzo e c'è stato un messaggio speciale, quello di Papa Francesco. Lo vediamo qui. Cari fratelli e sorelle, sto guardando il programma e vedo che dice studenti che cambiano la realtà. È vero questo? Voi siete capaci di cambiare la realtà? Sto così, ma non andiamo avanti quello che cambia a voi. State attenti, eh? C'è una realtà buona, quella che ti fa abbassare quando tu sei in orbita, boom! Questa è buona. la realtà. E coloro che sanno fare sono i giovani, i studenti. Talle volte i sogni sono oltre, ma si può. E voi avete la forza, voi avete l'illusione. Cambiate la realtà. E fate aiutare degli altri. Sempre il dialogo con gli anziani, eh? Il dialogo giovane non è importantissimo, ma cambiare la realtà. Grazie a tutto quello che voi fate, eh? Studenti che cambiano la realtà. E avanti il coraggio. È pregata per me e io prego per voi. Che il Signore vi benedica. Pasquale, Papa Francesco ha parlato di una realtà buona e di una realtà cattiva, quella da cambiare. Appunto, studenti che cambiano la realtà è il titolo di questa scuola formazione di studenti. Allora, nelle realtà cattive, pensiamo ai temi del bullismo, delle violenze, in che modo si rapporta il Movimento Studenti di Azione Cattolica? Quali sono le attività fatte poi nelle scuole? Sì, allora, il Movimento Studenti di Azione Cattolica ci tiene a questo tema. Anche Papa Francesco ci ha incoraggiati molto. Ha detto che possiamo essere studenti che cambiano la realtà mettendoci in ascolto, anche con gli adulti, con gli anziani. E il Movimento Studenti parte proprio da qui, perché ad esempio una tematica della scuola di formazione per studenti è proprio la dignità sociale. Quindi noi, grazie all'aiuto di alcuni esperti come professionisti, abbiamo affrontato questo tema per capire innanzitutto di cosa si tratta e poi in maniera concreta di andare nelle nostre classi e nelle nostre scuole per realizzare appunto attività concrete, attività di formazione per altri studenti, attività anche di inclusione, perché quello che vuole fare il Movimento Studenti è un'azione di inclusione verso tutti i compagni di classe, verso tutti i compagni di istituto, perché crediamo che ognuno di noi è prezioso e noi dobbiamo averne cura di ognuno, con il nostro motto, quello di Don Milani che è dell'Icare, mi sta a cuore. E partiamo proprio da qui, partiamo proprio dal nostro motto per ritornare nei nostri territori. Torniamo sempre sul programma della Scuola Formazione Studenti, ci sono stati tanti ospiti, avete avuto anche momenti di svago culturali, musicali, Lorenzo Baglioni, Marco Guacci, tanti altri. Qual è stato secondo te il momento più apprezzato dai ragazzi e poi ci sono state anche le divisioni in gruppi, ecco stiamo vedendo anche alcune immagini di quei giorni. Qual è stato il momento che secondo te resterà di più nelle menti dei ragazzi? Secondo me non c'è un momento che possiamo definirlo come un momento clou, ma tutta la Scuola di Formazione per Studenti ha lasciato il segno nel cuore e nelle vite dei ragazzi. Come dicevi abbiamo avuto tanti ospiti, intervallando anche momenti di divertimento a momenti di confronto e di formazione. Siamo partiti il venerdì sera con Lorenzo Baglioni, introducendo proprio un po' i temi che trattavamo nella Scuola di Formazione per Studenti che sono la transizione ecologica, la cultura digitale e la dignità sociale. Poi nella mattinata del sabato siamo entrati un po' nel vivo della formazione. Qui il nostro ospite di eccellenza era Gabriele Vagnato che parlava appunto delle sue scelte di vita anche grazie ai social con un suo monologo molto bello. E poi ci siamo confrontati molto sulle scelte di vita di un creator digitale, proprio per vedere come questi mezzi possono essere utili a noi giovani e a noi studenti. È stata una mattinata dove ci sono stati diversi ospiti, sia come la sindaca, la delegata appunto dell'Ambiente Ancipuglia per trattare di transizione ecologica e per dimostrare come ci sono scuole dove appunto c'è una mobilità sostenibile, dove ci sono scuole che hanno cura dell'ambiente e del territorio. Poi sulla dignità sociale abbiamo avuto il collegamento in diretta dal Kenya con il candidato al premio Nobel per la pace Niccolò Govoni che con la sua associazione Still High Rise ha messo su delle scuole appunto in questi luoghi dove si avverte una forte povertà perché lui ribadiva che è l'istruzione e la salvezza del mondo. Poi nel pomeriggio siamo entrati un po' nelle officine dei Cantieri 20-30, li abbiamo chiamati così perché questa è stata la vera sfida del Movimento Studenti di Azione Cattolica dove il Movimento Studenti di Azione Cattolica è riuscito a creare 12 alleanze molto importante perché il nostro obiettivo era quello di fare rete. Abbiamo collaborato con Conf Cooperative, con Unicef, Free for Future, Unidea, Pangea e tante altre associazioni impegnate nei territori su queste tematiche. E da qui è uscita un'agenda 20-30 degli studenti che consegneremo al Presidente della Repubblica nei prossimi giorni. Quindi avremo degli obiettivi e dei goal degli studenti per le scuole italiane. E poi in serata abbiamo vissuto un momento di festa, di divertimento con alcuni ospiti, con alcuni artisti, cantanti. Abbiamo valorizzato gli studenti che in questo momento sono artisti emergenti. Abbiamo voluto proprio fare questo. E poi abbiamo concluso la serata con il DJ set di Marco Guacci. La domenica mattina l'abbiamo intitolato Il tempo delle scelte. È iniziata la mattinata con la Santa Messa, preseduta dall'assistente generale dell'Azione Cattolica, dove abbiamo ricevuto questo videomessaggio di Papa Francesco che è stata una vera sorpresa. E poi la mattinata, chiamata Il tempo delle scelte, è iniziata con il professore Vincenzo Schettini, partendo proprio dalla fisica, dall'entropia, per parlare di cambiamento e di scelte dei ragazzi. Successivamente abbiamo avuto la presenza di una pedagogista che ci ha aiutato appunto a vedere in che modo possiamo fare le nostre scelte da studenti e da giovani. La mattinata si è conclusa con una lettera di una studentessa universitaria a causa di numerosi suicidi che stiamo sentendo di studenti universitari, che ha toccato davvero tanto tutti gli studenti, perché abbiamo visto ancora una volta che ognuno di noi è prezioso e ognuno di noi va maneggiato con cura, al di là del voto, al di là della bocciatura. E poi si è conclusa con le conclusioni dei nostri segretari nazionali e la presenza sul palco di tutta l'equipe, la squadra che ha lavorato a questo fantastico evento. Eccola qui inquadrata, vedo dalla regia. Questa è la squadra fatta di 26 ragazzi che per un anno hanno lavorato, abbiamo lavorato insieme a questo evento. Le ore di sonno sono state poche, ma la passione e l'entusiasmo sono state davvero tante. Sono state tante le soddisfazioni e saranno sicuramente tante altre, lo dicevi, anche con il prossimo appuntamento che è la consegna di queste conclusioni della Scuola Formazione Studenti al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Noi continueremo a seguirvi, grazie Pasquale per essere stato con noi e nel frattempo andiamo.